Ciao a tutti, sono Marta e sono una libraia della Libreria Rinascita di Sesto Fiorentino. Sono qui per presentarvi una delle letture scelte per quest'estate. In questo caso si tratta della scoperta del corpo umano della casetrice della rana volante. È un libro piccolo ma pieno di informazioni. Ci sono tantissime cose da scoprire su come noi siamo fatti. Per esempio, voi sapete dirmi quanti denti avete? Sapete da quanta acqua è composto il vostro corpo? E sapete che cos'è la piramide alimentare? Beh, tutte queste informazioni e molto altro le troverete all'interno di questo coloratissimo libro dove scoprirete tantissime cose sul vostro cuore, sui vostri beni, ma che dico, anche sul vostro DNA. Insomma, qui scoprirete davvero tantissime cose. Beh, non voglio svelarvi troppo. Vi consiglio questo libro e vi auguro buona lettura e buona estate. Ciao a tutti bambini!